Presentata la biblioteca Ceccarelli di Gatteo, l'ultima fatica del poeta Franco Milandri, saggi dai flussi. Direi che i miei inizi come scrittore, come poeta, sicuramente vanno indietro fino agli anni dell'università, quindi gli anni 80. E allora ho cominciato, studiando anche le lingue straniere, forse ho cominciato a interessarmi di versificazione, di poesia. E questo libro l'ho scritto alcuni anni fa, fra il 2006 e il 2012, e l'avevo lasciato un attimo lì, poi ho deciso di riprenderlo, perché mi sembra alla fine di aver fatto una cosa abbastanza interessante, poi naturalmente sarà il pubblico a giudicare. E sono contento di essere in una delle tante biblioteche della Romagna, perché mi sento comunque romagnolo, sono contento di vivere in questa terra. Il libro raccoglie poesie della piena maturità dell'autore, che si prefigge di unire la musicalità della lingua al valore evocativo delle parole, alla rapida pennellata dei paesaggi descritti. I temi centrali sono il ramarico per le tragedie umane e l'incontro fra le genti. Saggi è qui da intendersi nel senso di dimostrazioni, insegnamenti appresi dai flussi di stagioni, persone e ideali. Presento una mia composizione, una poesia, che ho scritto in onore di qualche incontro che mi è capitato durante dei viaggi, con gente che mi dava, così per fare un piccolo dono, un frutto della propria terra. E quindi attraverso questo piccolo gesto, questa piccola cosa, si può poi avere naturalmente una visione più ampia e fare anche dei viaggi quasi immaginari con la mente. Grazie.